Grazie per il benvenuto, sono veramente felice che sono qui, ho conosciuto tutte le persone, il direttore, tutto l'ambiente, la vedo molto bene, sono contento e la cosa è nata tramite il mio procuratore, Matteo, che mi ha parlato di Arezzo, poi ci siamo parlati con il direttore, mi piaceva questa idea, questo progetto, sono venuto qua, ho visto di persona e mi piace molto l'ambiente e guardo avanti di scendere su campo. Mi aspetto gol, sicuramente sono qua per fare gol, quindi voglio veramente essere un aiuto per la squadra, ci sono tanti giovani, già non vedo l'ora di conoscerli, c'è mister e voglio proprio di essere a mano, mi aspetto un campionato tosto, ho visto il girone, ci sono tante squadre buone, quindi non sarà facile anche perché siamo squadra neopromossa, ma è sempre bello con autodiasmo e quindi spero di fare bene, di dare una mano e andare avanti con i ragazzi. Abbiamo parlato con il direttore, con il mister che ci voleva un attaccante, un numero 9, uno di figura, uno per il box e quindi è questo che la società, l'attore cercava, io credo di fare questo mio ruolo, di farlo bene, di autare squadra, di salire la squadra e poi alla fine certo quello che conta sono i gol.